Le grandi voci del cinema Salve John, allora la toglierò subito dall'imbarazzo Non capisco perché sia tanto difficile confermare un appuntamento Lo so, mi dispiace Miranda, veramente l'ho confermato ieri sera I dettagli sulla tua incompetenza non mi interessano Io mi occupo di spiritualità invece, una cosa seria Clayton Hotel Idlewild Cosa? L'aereo parte a mezzogiorno e io devo prenderlo La vita in realtà è molto di più di quello che vediamo e immaginiamo Praticamente perfetta sotto ogni aspetto Ciò che abbiamo davanti agli occhi non è che la punta di un iceberg Quando sono stata là, io ero Dio Perché ero fatta di ogni cosa di lui Di quel luogo Gioio, equilibrio, forza, energia, amore incondicionato Le grandi voci del cinema Audio Movie La realizzazione di una colonna audio come fosse quella di un film Solamente che le immagini le mettete voi Pensavo questo di te l'altra sera E sono stato tentato di chiamarti Dell'alma ma della disperazione Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini Mi dispiace, ma io non mi fermerò Con l'Audio Movie Diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore Di continuare ad immaginare attraverso la propria creatività Ciò che sta ascoltando E' un'unica E' un'unica E' un'unica